pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati radicali e liberi potremmo racchiudere in queste due parole il senso del vangelo di questa domenica che viene a svegliarci dal rischio di vivere un cristianesimo all'acqua di rose gesù ci consegna tre condizioni per poter essere suoi discepoli vediamo un po' primo traduciamo alla lettera se uno viene a me e non odia suo padre sua madre la moglie i figli i fratelli le sorelle persino la propria vita non può essere mio discepolo e che significa ecco nel mondo ebraico questo odiare indica il porre in secondo ordine da qui la traduzione in italiano se uno non mi ama di più di suo padre sua madre moglie figli fratelli sorelle cioè il signore ci sta dicendo se tu non mi metti veramente al primo posto nella tua vita se non anteponi la relazione con me a qualsiasi altra relazione se non vivi dunque ogni relazione alla luce della relazione d'amore con me non puoi essere mio discepolo non ce la farai a venirmi dietro perché perché seguirai altro avrai altre priorità in fondo ciascuno segue ciò che ama e potremmo dire che le scelte della nostra vita rivelano cosa abbiamo messo davvero al primo posto noi potremmo pensare a questa parola come a un qualcosa di esigente che decurta la bellezza della vita in realtà non miei cari perché se dio è al suo posto ogni cosa va al giusto posto l'amore per il signore infatti nulla toglie agli altri amori ma li purifica e li eleva infatti che succede se io al primo posto della mia vita metto un'altra persona beh innanzitutto le sto dando un posto che non le compete e rimarrò deluso perché perché nessuna persona è dio per quanto io possa amare qualcuno quella persona non è l'amore assoluto non potrà mai saziare fino in fondo il mio cuore inoltre se assolutizzo un'altra persona e la relazione con essa rischierò di farmi e farle del male amando in modo disordinato possessivo egoistico facciamo qualche esempio giusto per capire che succede ad esempio se una persona continua ad assolutizzare sui genitori che rischierà di restare in una fase infantile della vita dove vive per compiacerli e ma come farà a spiccare il suo volo a far la volontà di dio nella sua vita se il centro è ciò che vogliono mamma o papà quanti giovani non hanno corrisposto a una chiamata del signore quanti altri sono entrati nella vita adulta monkey con un cordone ombelicale non tagliato dove praticamente ci si sposa a tre o a quattro lui lei e la mamma o la suocera creando situazioni tragicomiche confronti continui ingerenze 25 chiamate al giorno e ancora che succede se assolutizzo i figli che rischierò di legarli possessivamente a me oppure di cercare me il mio valore nel loro rendimento caricandoli di pesi di un'ansietà immensa oppure che succede se assolutizzo una fidanzata o il fidanzato che non riuscirò a discernere bene se quella è la persona giusta per la mia vita e magari per paura di perderlo metterò in atto scelte che mi portano fuori dalla verità e non possono darmi vera felicità lo stesso riguarda la nostra vita il signore chiede di amarlo di più perché è perché se io assolutizzo me quello che voglio io quello che mi torna comodo se io assolutizzo le mie prospettive i miei schemi le mie aspettative come potrò seguire cristo come potrò dire di sì se lui mi chiedesse di più e altro insomma cari fratelli e sorelle sono esempi poveri ma il signore qui ci sta dicendo se tu mi vuoi davvero seguire e imparare ad amare di più e meglio gli altri è importante che tu mi metta al primo posto è importante che come criterio delle tue scelte ci sia io che ti lasci guidare dalla mia parola è fondamentale che io sia la stella polare del tuo sentire del tuo agire perché perché tu possa essere veramente libero perché tu possa vivere relazioni libere e liberanti e lo ripeto solo se dio è al suo posto ogni cosa va al giusto posto seconda condizione gesù ci dice se uno non prende la sua croce mi segue non può essere mio discepolo noi subito pensiamo alle difficoltà alle sofferenze quotidiane ma qui diciamo che il significato è un po più profondo il signore ci sta dicendo se non sei con me come me non puoi essere mio discepolo ancora più concretamente se non sei disposto a fidarti di me anche quando il buio incombe se non sei disposto a donarti anche quando fa male non puoi venirmi dietro ancora più concretamente guardiamo a gesù la croce gli è stata apposta sulle spalle dagli uomini perché lo hanno rifiutato farsi carico della croce dunque vuol dire farsi carico del rifiuto del male farsi carico del peso delle scelte evangeliche della nostra vita e continuare a seguire cristo perché miei cari dobbiamo capirlo bene seguire gesù è la grazia più bella e più grande che possa capitarci nella vita ma comporta affrontare incomprensioni persecuzioni difficoltà il signore dice se non sei disposto ad accoglierle a fartene carico e a seguirmi non puoi essere mio discepolo se pensi che venirmi dietro sia tutto rose e fiori che sia una sorta di assicurazione contro gli infortuni o che io sia una sorta di capsula protettiva contro ogni problema non potrai venirmi dietro proviamo a fare un esempio di cosa significhi farsi carico della croce seguire cristo in questa prospettiva ad esempio inizi un cammino di conversione e alla bellezza dell'esperienza di dio si accompagnano le prese in giro le incomprensioni dei familiari ecco sei chiamato a farti carico di quella croce e seguire cristo oppure ti trovi sul posto di lavoro vuoi vivere secondo il vangelo e non scendi a compromessi e sul posto di lavoro vieni bersagliato per questo motivo ricordo un ragazzo giovane padre di famiglia al quale sul lavoro venne chiesto di mentire di imbrogliare i clienti la sua risposta fu io sono cristiano non posso farlo il datore di lavoro gli disse o fa così o la porta è lì si può accomodare fuori questo giovane aveva famiglia e un bambino piccolo pregando gli vennero in mente le parole non vi preoccupate di cosa mangerete di cosa berrete cercate prima il regno di dio e tutto vi sarà dato in sovra più disse signore mi fido di te non scendo a patti con il male non scendo a compromessi preferisco perdere il lavoro ma seguire te passarono due anni prima che trovasse un altro posto di lavoro in questi due anni testimoniava dicendo una giornata qui un aiuto di là un sostegno di qua la provvidenza non ci ha mai abbandonato ecco farsi carico della croce sostenere il peso della verità del bene allora poi in questa prospettiva chiaramente ogni difficoltà ogni sofferenza abbracciata per amore di gesù diventa un'occasione di salvezza diventa un'occasione di testimonianza potremmo vedere in questo senso la croce come una chiave la nostra chiave per il cielo e la chiave per aprire tanti cuori una persona inizia a seguire cristo e magari un amico un parente un familiare inizialmente lo prendeva un po in giro gli faceva battute lo guardava come strano chissà quali crisi mistica ha avuto poi con il tempo vede cambiare questa persona e inizia di incuriosirsi a esserne attratto e man mano quella curiosità diventa ricerca e spesso quella ricerca diventa porta d'ingresso di cristo nella sua vita ecco portare la croce continuare a fidarsi di dio continuare a seguirne la parola continuare ad amare anche quando fa male diventa una chiave che apre il cielo diventa una chiave che apre i cuori a cristo infine brevemente gesù dalla terza condizione e dice chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo uno potrebbe dire mamma mia che parola esigente impossibile da vivere ma ci chiede di andare tutti in una grotta no miei cari qui c'è una parola di liberazione c'è una proposta di libertà meravigliosa il signore ci sta dicendo se mi vuoi davvero venire dietro serve una cosa che hai un cuore libero da ogni forma di possesso il possesso d'altronde come diceva san francesco d'assisi è il contrario dell'amore abbia un cuore che sa accogliere tutto come dono da donare da condividere saper stare nel mondo usare le cose del mondo senza essere posseduti senza farsi usare dalle cose del mondo si tratta in fondo di rinunciare a fondare la nostra vita su tutto ciò che dio non è cari fratelli e sorelle la parola radicale di questa domenica si chiama ad una risposta altrettanto radicale parole forti quelle di Gesù che vengono a darci la grazia di tagliare con le inutili zavorre che ci tengono legati alla terra perché spinti dal fuoco dell'amore dello spirito santo possiamo lasciarci innalzare verso le vette della santità proprio come delle leggere mongolfiere e facciamo nostra l'esperienza che diede il via al cammino di fede intenso di colei che poi divenne la beata angela da foligno un giorno della settimana santa di tanti secoli fa una donna di foligno giovane bella e agiata rimasta da poco vedova meritava in una chiesa l'attuale duomo della città sulla passione del signore all'improvviso sentì risuonare nella mente con grande forza queste parole non ti ho amato per scherzo scoppiò a piangere perché di colpo si rese conto che fino a quel momento il suo amore per Gesù non era stato se non appunto uno scherzo in confronto a quello di Cristo per lei cari fratelli e sorelle forse il nostro amore il mio il tuo in questo momento per lui è uno scherzo o fino ad ora è stato uno scherzo chiediamo la grazia al signore soprattutto che riaccenda i nostri cuori d'amore per lui senza nulla anteporgli certi che se dio è al suo posto ogni cosa va al giusto posto che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti